C'è qualcuno che vuole salutarvi? Ciao amore mio! Sei un gattino bellissimo? Sei il rurubianco? Sì, sei il gattino bianco Sei il gattino bianco? Sei il mio piccolo gattino rurubianco Ho appena filmato un video Cato Denver sta continuando a chiacchierare Ho appena filmato un video con gli ultimi aggiornamenti sul matrimonio L'ultimo aggiornamento Prima del matrimonio Perché ormai manca meno di un mese E adesso vado ad editarlo e lo carico subito Ho diverse news da darvi per il matrimonio Perché ho ordinato la torta Ve la faccio anche vedere Ho ordinato i confetti, i fiori, ecc Quindi sono molto molto felice Ormai abbiamo fatto veramente tutto Ma per tutti gli aggiornamenti guardate il video Adesso lo monto subito e lo mando su E il video è finalmente online Io mi blocco sempre in questi screen assurdi, veramente Comunque il video è online Come potete vedere ho già messo cuoricino A tutti i vostri bellissimi commenti E sto rispondendo adesso Quindi venite a scrivermi nei commenti Perché ci sono Adesso vi rispondo Il fenicottero è stato gonfiato Con questa pompetta minuscola Ma ce l'abbiamo fatta Ovvero ce l'ho fatta Perché qualcuno non mi ha aiutato tanto Ciao pupetto Ciao pupetto Però è fatto E tra un po' si collauda Yes Questo sarà Questa sarà la location per questo weekend E si sta benissimo E vi devo dire che l'acqua è calda Questa volta è calda Wow George se ne sta in piscina Al fresco Bravo George Mentre noi prepariamo la griglia Mio pupetto Il mitico cappello Bagno notturno Sotto la luna E lì c'è George Ciao George Guardate che gatto che ho io Cioè guardate che roba Guardate che pancia che hai Guarda che pancia Che è il mio cappello Il mio cappello Il mio cappello Stasera sushi È arrivato da Saint Laurent Ma vi farò vedere in un video hall Prestissimo di che cosa si tratta Tututututu Mando un nuovo video Il mio ufficio oggi Tadadà Uno dei treni più belli Mai visti È troppo carino Sembra tipo l'Oriente Express Di Agatha Christie Mia mamma che mi fa arrivare in ritardo Perché fa le foto all'Oriente Express Fa ciao mamma Eccoci arrivati all'Atelier M Guardate anche quest'abito che bello Ok Wow Wow Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Outfit del giorno Inmancabile gatto Denver Che chiacchiera Outfit del giorno Ragazzi se vi siete persi la live È online E online su YouTube Quindi l'ho assolutamente lasciata Quindi potete andarla a vedere E io sto già leggendo tutti i vostri commenti Come al solito metto cuoricini Pranzetto Tardi A bordo piscina Ciao Puppetto Ciao E lì dietro c'è George Che ormai è famosissimo Bravi super atleti Voto 10 11 11 Si vede tantissimo Ma anche stasera c'è il tiramisquick ragazzi Il tiramisquick Squicks Squicks Scusa scusa Tiramisquick Che forse arriverà anche la videoricetta Non si sa Non si sa Forse forse Non si vede niente Com'è? Super Sta arrivando il temporale Guardate che meraviglia Mi è arrivata oggi Dark Hills E un sacco di pacchetti Urban Decay Che vi farò vedere nel prossimo video All'in arrivo tra qualche giorno Preparatevi perché sarà Mega galattico Grisca Grisca biondina Grisca biondina E lei è biondina? Si Grisca Grisca biondina Che brava Grisca Sì Ciao Gatudember Saluta tutti i tuoi fan Gatudember Che sei un gatto famoso Un gatto famoso Sto filmando Gatudember Gatudember Che bravo mio gattino Tutto bianco La merenda serale Il top Il patato Io volevo filmare un piccolo video Di questo nuovo pacchettino Arrivato da Shalai Ma non si può Non si può Con questi garoni Che bravi Che bravi E beh giusto Una scatola I gatti sommati per le scatole Io direi che ho giusto Un paio di cosine Da farvi vedere Nel prossimo video Ma Niente di che C'è Poca roba Gatudember ci teneva A sottolineare La sua presenza Sì Che bravo Che bravo Il mio gattino Truro bianco Sei il più bel gattino Di ruro al mondo Si ruro bianco Un po' carancione Sono al montaggio Di nuovo video In cui leggo I commenti Degli haters Preparatevi Ok al montaggio del video hall che spero sarà in arrivo stasera spero di fare in tempo comunque preparatevi perché sarà epico grazie siamo appena tornati a casa e il video è un po' tardi per metterlo adesso quindi anche se è praticamente pronto ma lo caricherò domani facciamo all'una e mezza quindi all'una e mezza nuovo video super mega hall super spacchettamento ho un sacco di roba nuova da farvi vedere iscriviti al canale ho finito da Goranviler sono troppo contenta perché la pettinatura per il matrimonio sarà bellissima sono super super felice qui c'è un tempo che veramente sta per venire giù il diluvio adesso vado a casa a caricare il video preparatevi qui c'è un gattino che fa tanti miau tanti miau e tanti bacini tanti bacini sei duro bianco? sei duro bianco? oddio tutta la mala coda oddio sei emozionato che non è mai che bravo sei duro bianco? si oi 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 Grazie a tutti.